Un po' benissimo, penso che sia un po' benissimo bello. I temi trattati in questa silvoglia dal titolo Un volo di farfario della poetessa Isabetta Tiano sono interconnessi e creano una sottile tela di ragno che delicatamente sostiene le molteplici staccettature della complicata essenza umana. Sperimentiamo durante l'avventura un'introspezione personale che ripercorre quella della nostra autrice e che permetta alla nostra anima di ricollegarsi allo straordinante voluto poetico che è stato, è e sarà sempre il sostegno di tutti coloro che riescono a rimergere e vivere nel favoloso ritmo della poesia. Le litighe sono caratterizzate da una contempo di musicalità, che viene esplicitata da un uso profondamente interiorizzato delle decasiglie e dei centenari accennati. Le tematiche presenti nelle poesie si riferiscono alla vita, alla morte, all'avventura, alla tristezza, alla fragilità e alla forza umana, al silenzio, alla scuola, alla natura, eccetera. Sono tantissimi. Queste tematiche si intrecciano l'una all'altra e nello stesso tempo mantengono la singolarità degli argomenti che abbracciano con delicatezza il percorso scolare dell'uomo. Uomo che non si arrende, anche se cade, si rialza e continua a sfruttare l'andare. Quello che ritengo come un momento piacevole in queste poesie è scoprire un ricorda che anche di fronte all'argomento doloroso sempre c'è un apporto sanguinico dato dalla presenza del ricorda che, unito alla speranza, offre all'uomo l'ambito per percorrere nuove e piccole strade. Grazie, Isabetta, che questa volta ci ha ricarato a queste preziosi perne che illuminano il buio delle armi. Grazie.